La presentazione del progetto definitivo mercoledì pomeriggio in commissione, poi la conferenza di servizi e l'appalto integrato con i lavori che inizieranno a luglio. Ecco come sarà il nuovo lungo lago di Lecco. Il progetto dell'architetto Paola Viganove, incitrice del concorso di Day Waterfront, è stato in parte rivisto. Sono scomparsi la piscina e i gradoni a lago, ma aumenteranno gli spazi per pedoni e ciclisti. Dieci chilometri da Caviate a Rivabella, dieci milioni di euro di investimenti. Spariranno alcuni parcheggi all'autostrada, ma la passeggiata verrà allargata. Il cantiere partirà a luglio. Si tratta di ridisegnare il fronte lago della nostra città, prendendo spunto da quel concorso che vinse l'architetto Viganò nel 2019 e che nel frattempo è evoluto con diverse esigenze tecniche e anche con soluzioni architettoniche interessanti. Stiamo cambiando faccia alla città. Sarà un investimento di 10 milioni di euro per rendere questo spazio pubblico ancora più bello, percorribile, a piedi, con le bici, ma soprattutto sfruttabile, perché ci saranno tutte le predisposizioni, perché questo sia uno spazio vivo, sia uno spazio funzionale. Noi abbiamo reperito le risorse necessarie e non c'era un euro su questo progetto. Le abbiamo raccolte grazie al PNR, grazie a Regione Lombardia che ci ha messo un milione, PNR quasi sette. La differenza l'abbiamo messo a noi di tasca nostra, noi cittadini lecchesi, e saremo orgogliosi del bel lavoro che andremo a realizzare. Spariscono però da questo progetto gli elementi che più forse avevano caratterizzato il nuovo lungolago, vale a dire le gradinate a lago o la piscina a sfioro sull'acqua. Sì, quelli erano delle idee progettuali di sicuro effetto scenografico, che non sono compresi in questa prima trash di 10 milioni di euro, che invece serviranno per riqualificare tutta la, il marciapiede, tutta la camminata, quindi rialzandolo, togliendo le radici che sono motivi di inciampo. E non è escluso che questi due elementi preziosi e ovviamente anche interessanti, attrattivi, ma molto cari, potranno essere realizzati in una fase successiva, sempre che riusciamo a reperire le risorse. Per intanto siamo assolutamente soddisfatti di questo risultato, perché vuol dire che davvero iniziamo a mettere mano a uno spazio di città che le chiese attendono da decenni.